Il mondo economico, l'economia va sempre di più verso il terziario e quindi reclama e richiede da parte nostra un supplemento di impegno, di responsabilità, di attenzione. E allora anche questa sede rinnovata che cosa significa? È un segnale forte di vitalità al servizio delle imprese e del territorio ma è anche un segnale concreto di fiducia verso il futuro. L'avete detto tutti voi e io lo condivido. Oggi viviamo una situazione certamente difficile, certamente delicata, certamente complessa dal punto di vista economico e sociale oltre che dal punto di vista politico. Però lui mi ha detto una cosa che mi sono appuntato. Questa sede significa anche avere una visione, avere una visione allargata che consente la crescita delle nostre imprese. Perché il discorso è proprio questo, è quello di avere visione e di avere crescita. Guardate.